Nei prossimi giorni verrà ripristinato il doppio senso di circolazione sulla strada statale 126 nei pressi di Sganaus dove sono in corso da parte di Anas lavori da mesi per il rifacimento di un ponte. Ci è voluto un po' di tempo tra cui due lettere di intervento del prefetto ma alla fine abbiamo trovato la quadra per risolvere il problema del senso unico alternato sulla strada statale 126 all'altezza del ponte di Sganaus ha spiegato il sindaco di Carbonia Paola Massidda. A partire dai primi di agosto, mese in cui il traffico verso le località balneari è più intenso, la ditta esecutrice delle opere di manutenzione del ponte sposterà l'allestimento di cantiere a lato della pista ciclabile. Ancora qualche giorno, giorni necessari al direttore dei lavori per spostare materiali e cantiere e riavremo la possibilità di attraversare il ponte con il doppio senso di marcia senza più disagi sinora subiti per dei lavori che risultano però necessari ai fini della sicurezza di noi tutti ha concluso Paola Massidda. Un grazie va all'ingegner Mario Mammarella della provincia del Sud Sardegna per la collaborazione e all'ingegner Barbara Porcu dell'ANAS per la disponibilità dimostrata.